Buonasera Presidente, sono andato a rendergli omaggio, a salutarlo, ma non ho sentito le sue parole perché ero impegnato in una riunione, sicuramente saranno state parole di saggezza, ma non ve lo sentire. Sono contento della compattezza del centrodestra. Presidente, ma vi siete sentiti? Io no, io no, non ho avuto occasione, l'ho sentito in aula. L'ha sentito in aula? Che cosa vi siete detti in aula? A profitto dell'occasione per assicurarvi in tutta sincerità che non mi ha rivolto nessuna parola ingiuliosa. Quindi non c'è stata quella parola ingiuliosa? Nei miei confronti no, se dopo che me ne sono andato non lo so, sicuramente in ogni caso non ne ho indirizzata. E la sua direzione, Presidente, è stato contento della sua elezione, no? Io o Berlusconi? Ah, io sì.